La strada che porta alla fusione delle due Aset è delineata. Averrà per incorporazione della Aset Holding nell'Aset S.p.A. e dentro il mese, presumibilmente nel Consiglio Comunale del 28 luglio prossimo, verrà presentata una delibera di indirizzo. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, come un comandante di vascello sembra aver messo le manette dei motori avanti tutta e la barra del timone dritta è ben salda tra le mani, come lui stesso ha affermato questa mattina durante il consueto incontro con la stampa. E saranno le carte a parlare, come le carte hanno parlato in questi giorni, in cui il comune, la proprietà quindi, ha dovuto ricorrere ai cartellini rossi per rimettere le cose a posto e ricondurre tutto alla normale dialettica politica. Le scarrociate impreviste non piacciono al primo cittadino che tuona. Sono stato chiarissimo nella lettera e mi aspetto che la holding recepisca tutto ciò che c'è scritto. Diversamente verranno presi i provvedimenti del caso. Traduzione, se la holding non ritira la diffida ai consiglieri comunali del vecchio Gabatini e Santorelli, allora interverrò personalmente. Ora, che il sindaco sulla fusione Aset goda del consenso favorevole dei comuni interessati era cosa nota. Cosa meno nota e scontata è il fatto che ora anche il Partito Democratico sembri sposare questa linea. La barra è ferma, andiamo verso la fusione. Ovviamente quando ci sono le situazioni complesse, politicamente accese, è chiaro che le cose non sono mai semplici. Adesso siamo nella tutela d'arrivo, le posizioni sono chiare, abbiamo le idee chiare e poiché parliamo di un'azienda che ha anche dei soci, cioè dei altri comuni, anche se sono soci con quote minori, ma è mio costume cercare sempre la condivisione, perché se le cose riusciamo a farle condividere sono più lineare e arrivano all'obiettivo. Quindi posso dire tranquillamente che entro il mese di luglio porteremo in Consiglio Comunale la delibera di indirizzo.